ragazzini buongiorno ragazzini buongiorno a tutti guardate chi sta oggi con noi qua in macchina oggi è il giorno della visita è il giorno di visita è la nostra piccolina Lilli la cioppettina che si prende aria e quando si mette in macchina è sempre così a prendersi a guardare fuori dal finestrino oggi il veterinario la deve visitare così di routine per vedere come va come cresce oggi il video viene fatto dal cellulare ragazzi perché la bottecana resta a casa e il signorino si è scontato e sta a carica? ciuppi! ciuppettina beh non c'è bisogno che fai vedere tonzilla però ci vediamo dopo dai ciao ragazzini siamo in euro in euro da fare la spesa beh? c'è il resto la pancetta non c'è? no hai visto bene Bill? si sono con la prima pancetta però non ho la doccia c'è la mia qui c'è si cammina com'è? guarda ragazzi stiamo facendo la spesa qui io porto il carrello io sono l'autista del carrello ed ecco ed ecco ed ecco i primi i primi via vai come le bocce poi c'è polpa polpa la doria l'ora del caffè come lo fai tu star questa notte devi dormire questo è ag ed è caffeinato ah guardate ragazzini siamo qui buonasera che bella giornata buonasera mangiamo pollo e carote rosse mi ami guardate ripetine stiamo vedendo squadra antimafia ragazzini beh è iniziato ciao ragazzacci stiamo vedendo ancora squadra anti mafia però devo dire una cosa ragazzi cioè molto surreale una critica allora a me quel tipo di film piace ma no perchè si tratta della mafia della coda vabbè un po' affascina quella quella affascina tra virgolette però vedo se sta iniziando però quando vedi che a fare la guerra sono solo tre poliziotti contro un branco di 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 cattivi no da non essere c'è c'è una bomba di tritolo che vanno ora mi sporto i d'artagnani c'è da mi sa che è iniziato eh perciò un po' scoccia questa cosa qua invece tu vai con la squadra con cinque sei sette otto è iniziato ciao quando sono così una decina almeno ciao ciao basta con i fermi immagini non è un fermi immagini che cosa è uno sguardo intenso uno sguardo puntato erano meglio i fermi immagini bene ragazzi stiamo qui nel che niente stiamo qui nella nostra toilette il nostro bagno e la chiusura la facciamo qui stasera si la chiusura la facciamo qui ragazzi perché perché ho scelto il bagno perché è una location abbastanza importante ragazzi una location adatta ad ogni tipologia di vita l'importante è che si cachi ok ok o no giusto lei sta facendo dei servizietti lì si sta spulciando eh certo perché Lily mi riempie di pesi di maglietta e pantalone quindi mi spulcia un po' di daia dani o di hia di hia dani che ciupi eccola la nostra ciupi no ciupi ciupi oggi ha fatto la visita al vetrinario tutto bene tutto bene cresci con una porcellina non è un cane una porcellina eh come la padrona non direi fanno lo stesso rutto fanno non è vero si Lily c'è il mio piede lì Lily c'è il mio piede lì lì c'è il mio piede lì lì c'è la grappata si si è piccata le buchi assate tra i buchi miei dalle crocs andata guarda la bozzetta vediamo la zampa vediamo Lily vabbè vabbè dai vabbè ragazzi ripeto il fatto del film a me poi scotch a vederlo si perché alla fine classiche classiche alla fine voglio dire sempre quello il ragionamento sempre quello se ti dici vedi cambiano un po' delle argomentazioni un po' vedi quello come recita però a fin dei conti e quello è sempre quello è meglio vedere i cesaroni è meglio vedere tutti i pazzicci no no che i cesaroni la tazziccia ti pazzi per amore voglio vedere un medico i pazzicci perché si perché fai Lily la trottola questo è anche per Valeria perché Valeria diceva che il suo cane si prendeva la coda e girava io gli ho detto no la mia si prende la zampa ecco hai visto? si ma Valeria da quello che ho visto non vede più i nostri video perché non ha commentato un video Valeria se ci sei batti un colpo vabbè ragazzi guardate Lily c'è molto in cima ti hai visto? no non lo so ehi non è che sono sporchi i tappiti è proprio quello che vuoi e si arrabbia e lì andiamo dai va bene ragazzi dai il video giro si termina qui iscrivetevi al canale commentate condividete mettete un bel mi piace e iscrivetevi alle pagine facebook s85 e youtube siamo bloccate 46 47 47 47? eh si vai e non mi aveva avvisato io avevo detto pensavo che ci eravamo bloccati i 46 invece no 47 bravo 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 il nuovo iscritto si chiama? youtubers pua 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 lo so sono sempre io va bene meno ascolta di iscrivermi con il canale youtubers per farmi una velocità anche io viva la sincerità viva la sincerità dai diamolo per buona comunque mancano 3 iscritti ragazzi mi raccomando eh continuate a seguirci ciao a tutti buonanotte ciao ciao